carissimi amici e amiche bentornati al ciclo di catechesi sui vizi e le virtù che speriamo questa sera possa portarci alla conclusione della terza virtù teologale che è la carità dovrebbe certamente così essere per quindi poi iniziare il terzo vizio capitale che è la lussuria un vizio abbastanza scabroso sicuramente il tempo di quaresima che è un tempo di penitenza sotto vario punto di vista ci aiuterà un po a doverci ahimè sorbire le brutture di questo di questo vizio ecco fino a quando però il signore se lo concede rimaniamo ecco nei pascoli erbosi e assolutamente ameni e divini di questa virtù cercando di concludere una trattazione sempre come stiamo facendo in quest'ultima parte guidati da da san tommaso e la volta scorsa dovremmo esserci fermati se non ricordo male agli atti peculiari in cui si esplica la carità che san tommaso sull'onda della tradizione individua in tre particolari opere la beneficenza che ha un ambito più esteso di quello che comunemente intendiamo l'elemosina e la correzione fraterna sono opere molto particolari la beneficenza come dice il nome stesso consiste in latino è buon facere no quindi nel fare fare il bene credo di aver recitato anche la volta scorsa il motto di uno dei molti uno dei tanti molti di san giovanni bosco no fate del bene più se ne fa meglio è a qualunque persona amica o nemica simpatica o antipatica il bene che va dal grande bene di un sorriso che è un grande bene un grande regalo che facciamo il prossimo un favore una parola gentile una parola di pace un incoraggiamento a volte anche uno sguardo che sia una carezza no come guardiamo il prossimo è molto significativo dentro questa sua accettatura ci sono il garbo l'affabilità la gentilezza la generosità e di nuovo il sorriso traspaiono quando la carità è viva in un'anima no quando queste cose non ci sono certamente c'è qualcosa che non funziona opere di beneficenza in senso stretto come ci ha consegnato il catechismo della chiesa cattolica il catechismo pluriennale insomma della chiesa sono le sette opere di misericordia corporale che spero tutti ricordiamo a memoria che sono quelle descritte nel capitolo 25 del vangelo di matteo quelle su cui tutti passeremo passare l'esame al giudizio universale a cui c'è da aggiungere seppellire i morti che è opera di misericordia corporale nella bibbia impariamo dal grande tobi il papà di tobia che pur in pericolo e praticava questa grande opera di misericordia che seppellire i morti adesso qui mi verrebbe voglia di fare qualche notazione polemica sul fatto che si sta diffondendo come una piaga purulenta anche tra i fedeli io sono parroco quindi celebre funerali quando le notanze punibere danno il certificato insomma quel pezzo di carta che ti serve a registrare poi il defunto su registri cimitero di destinazione quando c'è un cimitero che non è quello delle zone ma non voglio fare il nome insomma è una località ben precisa vuol dire che quello la portano a brusà è uscito un documento della chiesa scusate che faccio questa piccola parentesi però questo è argomento importante a firma del cardinal miller mi sembra che fosse del 2014 con il cardinal miller ancora grazie a dio prefetto della congregazione della rotina della fede chiaramente firmato al cardinal miller contro firmati come tutti i documenti di quella congregazione dal papa dove fondamentalmente diceva vabbè adesso la chiesa come dire ha tolto l'antico divieto della proibizione per l'eseguio a chi sceglieva la cremazione perché di per sé quell'atto è oggettivamente come dire in quanto materialmente compiuto contrario alla credenza nella resurrezione della carne per cui il corpo va trattato va custodito i cimiteri se li sono inventati cristiani non c'erano prima se uno va a pompei vedrà che i cimiteri romani pompei è stata distrutta in in epoca già cristiana no quindi ma c'erano tutte quante le le urne cinerari cimiteri romani erano fatti così c'erano i loculi per custodire le urne cinerarie l'inumazione è cominciata con noi collegate con le cosiddette catagombe le catagombe erano cimiteri fondamentalmente e i cristiani su questo ma non ci pensavano manco per l'antica era proprio il segno distintivo dal paganissimo cioè voi bruciate i morti noi mai che siamo amati a bruci e morti quello è il corpo santo di un battezzato è un corpo che va a riposare un'attesa della resurrezione faccia o brucio ora che succede vedete guardate io vorrei nel mio compito sacerdotale di imparare le persone di insegnare scusate alle persone a ben ragionare cioè lo sanno già fare dargli un aiuto ulteriore vorrei riflettere su questo fatto cioè molti criticano come dire un certo atteggiamento di una chiesa del passato diciamo così che era troppo rigida era troppo rigida anche anche certi santi sono leggi scritti hanno quelle non troppo rigide destra sinistra cioè guardate che cosa succede ogni volta che si fa un'eccezione che succede siccome c'erano delle motivazioni per cui uno non è detto che vada a farsi bruciare perché vuole fare uno sfreggio al dogma della resurrezione anche se questo è rimasto una cosa tipicamente come dire laica nel senso di di racista cioè i grandi laici si si fanno tutti cremare proprio per a sfreggio della della felice però non è detto confederlo faccia se consta che non lo faccia per questo motivo si può fare il funerale che di per sé non fa una piega cioè non è chiaro va bene ma qual è poi l'effetto che se è una cosa che si può fare perché tanto se la chiesa deve far fuori allora diventa la regola l'eccezione diventa sempre la regola io faccio sempre porto sempre l'esempio della della pratica adesso ormai è diventata la norma con il post covid della comunione in mano le prime eccezioni concesse all'epoca da paolo sesto per come dire per tamponare una situazione che c'era una disobbedienza di fatto quindi una prassi abusiva che per quanto fosse stata repressa continuava ad andare avanti che facciamo questi qua dobbiamo fare il pugno di ferro oppure cerchiamo di fermarli circoscrivendo diciamo si potete farlo una volta ogni tanto a certe condizioni una volta ogni tanto a certe condizioni guardiamo adesso come ci siamo ridotti voglio fare un altro esempio il clergyman per i preti il clergyman per i preti nacque originariamente come si negli anni 60 sta cominciando in giro le lambrette per esempio no allora certi predi cominciano a lamentasse io sulla lambretta posso andare con la talare che questa me se svolazza tutto quanto come si fa dice fammi mettere il clergyman almeno mandare lambretta all'inizio no poi dagli oggi dagli domani dice vabbè allora il clergyman si può usare eccezionalmente per viaggiare oppure però in parrocchia talare quando celebri talare come stiamo oggi a talare non la porta più quasi nessuno il clergyman la portano pochi la maggioranza dei sacerdoti purtroppo va in giro vestita come i naici quest'ultima parte senza cioè di per sé non è consentita dalla legge ecclesiastica perché il clergyman è tuttora permesso è ma è diventata la regola cioè se tu ti metti la veste talare che è tuttora l'abito ecclesiastico ordinario è attenzione nella chiesa cattolica sei guardato come uno che è strano che deve essere per forza ultra tradizionalista e come dire intransigente vedete che succede vabbè non volevo fare questo però cerchiamo di 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 formarsi cioè l'eccezione è sempre pericolosa ecco perché i maestri di spirito erano sempre molto rigidi su tante questioni molto 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 rigidi ma a essere troppo rigido perché rigido perché purtroppo la natura umana noi dobbiamo sempre tenere presente una cosa esiste il peccato originale così facciamo con lo spot per l'altro ciclo di catechesi il peccato originale fa in modo da fa sì che la nostra natura sia debole cioè chiaro che di per sé un'eccezione la si può sempre fare ma per come siamo fatti noi adesso sicuramente se tu fai l'eccezione quella è destinata a diventare la regola e se è un'eccezione su un argomento delicato ci devi pensare 500 volte prima di farla perché meglio essere un pochino più rigido piuttosto che aprire poi la strada prassi e consuetudine che in sensato vanno a fini la stessa cosa la riforma liturgica che ha portato al nuovo messale questo argomento di attualmente scottante le radici remote nacquero già ai tempi di pio XII quando fu riformata fu riformata della settimana santa perché il messale romano per secoli non è stato toccato perché si riteneva una cosa sacra e quindi non ci puoi mettere le mani sopra c'era un aneddoto per far capire di questa cosa qui che gira che quando proposero a pio IX di aggiungere il nome di san giuseppe al canone romano cosa che poi fece giovanni ventitresimo col messale del 62 più non lo sapete cosa risposto che devo fare io devo devo mettere le mani al canone romano al messale romano scusate io sono soltanto il papa rispose queste io sono soltanto il papa come dice mica il padre eterno che posso andare a cambiare una cosa del genere oggi uno che sente questa cosa qua farà il sorrisino oppure dire a queste sono esagerazioni ecco questo è lo spirito retrogrado come dire antiquato ma che so ste cose vediamo dove 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 siamo ridotti cioè come adesso con il novus sordo ahimè anche se di per sé il novus sordo non legittima tutti quanti tutti quanti gli abusi benedetto sagesimo scrisse fino ai limiti del sopporto dell'insopportabile che si vedono in giro però che cioè capiamo il vortice che si è valeva la pena punto interrogativo io mi permetto insomma questo questo si può fare nell'osservanza delle norme attualmente vigenti sotto tutti i punti di vista però di esprimere un'istanza critica a mio avviso c'è stata proprio una miopia generalizzata che poi causa nel corso del tempo sbracamenti sotto tutti i punti di vista non sono questi gli insegnamenti che abbiamo ricevuto dai santi padri da duemila anni di storia e io sono sempre molto perplesso quando con una eccessiva disinvoltura ci si getta alle spalle duemila anni di storia ripeto perché adesso noi sappiamo tutto e per duemila anni sti imbecilli non hanno capito niente io ripeto questo questo modus pensandi che non si dice latino questo modus pensandi e questo questo modus pensandi che un neologismo improvvisato adesso questo questo modus cogitandi forse se si vuole essere ecco più fedeli alla lingua latina in senso stretto a me ha fatto sempre molta paura e continua a fare molta paura ecco però chiudiamo sta parentesi se no non finiamo di parlare della della carità quindi tutto questo perché mi è venuto in mente non seppellire i morti ecco quest'opera di misericordia spirituale nel senso che mi era subito nata la battuta adesso ce ne sarebbe molto meno bisogno perché che te devi seppellire se molti li brusano e poi nonostante quello che ci ha scritto in quell'istruzione dice sì lo si può fare ma è probito portarsi le cenere a casa questa proibizione non so quanto venga messa in pratica no ecco fare cose neopagane tipo chi si mette un pochino di cenere dentro dentro un ciondoletto e solo mette al collo cose di questo tutte quante proibite queste in base all'istruzione in ogni caso vabbè comunque poi ci sono le opere di misericordia spirituale abbiamo visto credo anche la volta scorsa di insegnare agli ignoranti a peccatori perdonare le offese consolare gli afflitti consigliare dubbiosi sopportare pazientemente le persone moleste pregare dio per i e per i morti di queste più se ne fanno e meglio è più se ne fanno meglio è ecco quindi noi cristiani abbiamo come legge fare sempre il bene cioè quanto più bene possibile quanto più spesso possibile e a quante più persone possibili ricordiamo che gesù vuole che noi siamo attivi nel bene cioè molta gente dice io non faccio niente di male tu devi chiederti che cosa fai di bene quando gesù formula la cosiddetta regola d'oro che è ovvio che che ha a che fare con la carità nella sua dimensione orizzontale cioè l'amore del prossimo non dice non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te c'era una formula in termini negativi tu dici io non faccio niente di male e quindi sto a posto no gesù dice tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi fatelo voi a loro quindi noi dobbiamo essere solleciti attivi nel bene non semplicemente attenti a non fare il male che poi bisogna vedere se veramente non non lo facciamo è veniamo all'elemosina ecco la seconda delle opere della carità è un punto importantissimo della vita dei fedeli e molto spesso trascurato da non pochi come abbiamo visto parlando della del vizio capitale dell'avarizia quindi vado veloce perché molte cose abbiamo già 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 viste qui l'attaccamento al denaro si legge nella prima lettera di san paolo a timore al capitolo 6 versetto 10 è la radice di tutti i mali e gesù ha tornato più volte no evangelico il noto aforisma non potete servire a dio e mammona mammona secondo le segesi più criticate da intendersi come i soldi il denaro o elemosina una specie particolare di beneficenza c'è un atto di carità consistente nell'energire liberamente volontariamente gratuitamente denaro per sovvenire una miseria o una necessità altrui o gesù invita chiaramente a non accumulare tesori sulla terra ma ad accumularli in cielo e ricorda con la sua sapienza e questo prima di volta sempre anche noi che il nostro tesoro si trova là dove il nostro cuore e là dove il nostro cuore è anche il nostro tesoro queste indicazioni di gesù piena di sapienza sono da tenere presente per affrontare questo tema con sincerità dinanzi a noi stessi o sant'ommaso dice che l'elemosina che di per sé è sempre un atto gratuito e volontario però diventa un precetto quindi un obbligo in due situazioni quando si hanno diversi beni superflui e quando c'è una situazione disperata di estrema necessità verificabile bisogna in ogni caso però sempre ricordare con la sapienza del nostro caro e santo padrono che è san francesco da sisi che in paradiso non si possono portare soldi a meno che c'è un sistema c'è un anziché nelle banche che sappiamo tutti quanti adesso questa costaria che tira non sappiamo che fine faranno se andranno a dissolversi come fumo se non ce li fanno usare più se non facciamo tante cose ci sono tante leggende nere ecco che circolano in giro che terrorizzano le persone no ora vogliamo metterli al sicuro alba in banca non stanno al sicuro quanto a quanto pare insomma adesso adesso come adesso insomma no c'è una banca del cielo però la bdc io la chiamo la bdc che tra l'altro fa tasso di interesse voglio vedere quale banca fa questo questo lo dice gesù nel vangelo è tasso di interesse 100 per uno qui tu dai uno e ti viene 100 non solo 100 per uno subito ma come dire infinito per uno dopo perché gesù dice che chi dà chi denuncia certamente anche i beni importanti però in questi beni importanti alla fa del madre al figlio la figlia i campi ci sono anche no quindi sono gli averi ci riceve cento volte tanto e la vita eterna la vita eterna certamente un bene commensurabile cento volte tanto sì quindi le lemosina è importantissimo farla esorto e da parte di tutti anche da parte di chi è povero usiamo tranquillamente il termine cioè non hai beni al sole ci abbiamo l'esempio evangelico della povera vedova che getta nel tesoro due spiccioli cioè un quattrino cioè equivalente oggi sarà una volta una volta ho fatto la il conto non più di 23 euro però gesù la guardo con due occhi così negli scritti di maria valtorta per chi ci crede quando commenta quell'episodio dice proprio chiaramente la guarda proprio con uno sguardo proprio con un sorriso con gli occhi che gli erodiche che gli rilevano a 32 denti e dice suoi vedete quella per fare questa cosa questa oggi non mangia perché con quello se si sarebbe comprata un pezzo di pane per il suo non lussuoso pranzo quindi è importantissimo le lemosina attira un sacco di grazie da parte del signore è un'opera penitenziale molto meritoria viene da dio accolta se la segna sarà sicuramente ricompensata sicuramente anche se un'anima ahimè dovesse dannarsi e purtroppo dio lo sa se quell'anima che compie quel gesto si dannerà il fatto che dio sappia attenzione chi si danna non vuol dire che lo voglia ne vuol dire che questo condiziona minimamente la libertà della persona perché dio sa ma secondo il nostro modo di pensare agisce con noi come se non lo sapesse come ha fatto dal resto Gesù con Giuda ok quindi nel senso che ci darà tutte le grazie fino alla fine però lui è dio quindi non può non può non può non può avere il lusso di non conoscere il futuro né di illudersi ma se un'opera di lemosina la fa un'anima che purtroppo non potrà essere ricompensata con la vita eterna in forza delle parole che ha detto il signore la ricompensa in vita con beni e benefici temporali non la lascia non ricompensata un'opera di lemosi se l'anima raggiungerà la salvezza queste cose le dice San Tommaso non le dico io cioè che se dio sa che la persona non si riuscirà a salvare ricompensa con varie grazie di tipo temporale le lemosi energite in vita viceversa se raggiunge la salvezza sapete che la salvezza non la raggiungiamo c'era chi è stata ammessa oggi la meta della nostra fede è la salvezza delle anime però un conto è raggiungere la salvezza un conto è andare direttamente in paradiso sappiamo tutti quanti che ordinariamente post vita c'è una fase di purificazione più o meno lunga e più o meno intensa a seconda di quante macchie abbiamo dati da da purificare di quanto dobbiamo soddisfare la divina giustizia quanti peccati non riparati ci portiamo solo sulla coscienza o quanti peccati veniali che non tolgono la grazia ma appunto richiedono una penitenza per poter essere distrutti per poter essere tolti nelle macchie che causano la nostra anima o l'elemosina San Pietro scrive nella sua prima lettera che la carità copre una moltitudine di peccati e in quel contesto si capisce che allude proprio l'elemosina quindi grandi elemosi una persona mi vorrei risparmiare un bel po' di purgatorio a parte che ci abbiamo siamo alle soglie della parete della quaresima chiunque voglia risparmiarsi un bel po' di purgatorio ogni tanto qualcuno mi fa una mail come faccio a risparmiarmi un po' di purgatorio? io dico figlio mio cioè figlia mia cioè Gesù ce l'ha detto nel pancio quali sono le tre opere penitenziali che la chiesa insegna e che la quaresima ci ricorda e in quaresima dobbiamo farle figlioli miei cari adesso e farle come? la chiesa non ha in questo periodo storico leggi stringenti non so chi di voi sa per esempio che un tempo durante tutta la quaresima non si mangiava la carne tanto è vero che la Madonna nell'apparizione di Lasalette del 1849-46 46 credo disse in quaresima vanno dal macellaio come cani quindi è un'espressione abbastanza 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 cruda adesso in quaresima non c'è una disciplina così stretta perché c'è l'astinenza dalla carne soltanto il venerdì figuriamoci digiuni canonici poi tra l'altro quindi oltre modi impegnativi sono rimasti quelli obbligatori soltanto il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo e tra l'altro per le persone tra i 18-60 anni d'età quindi è la nostra fantasia è la nostra buona volontà più ne fai sicuramente più digiuni fai più preghiere fai più le mosi ne fai e meno purgatorio te fai questo è proprio matematico questo qui matematico quanto eh vedi tu figlio mio vedi tu vedi tu quanto ci credi che cosa decidi e quanto ci vuoi investire ora i cristiani non sono pauperisti quindi quello che dicevano alcuni eretici cioè che tutti dobbiamo essere per forza poveri siano tutti all'inferno è un'adesia non meno di quelli che condannavano il matrimonio dicevano ah no evviva la purezza e la verginità quindi il matrimonio deve essere abolito perché soltanto i vergini vanno in paradiso questa è un'altra stupida angela questa qui ecco gli atteggiamenti eh disordinatamente estremisti eh sono sempre sospetti ecco e infatti sono sono tutte quante posizioni eterodosse queste che non hanno niente a che fare con la con ciò che la chiesa pensa quindi i cristiani non sono pauperisti cioè per forza dobbiamo essere tutti quanti poveri e privi di bene se non tutti quanti all'inferno no però al tempo stesso sanno che il denaro è un bene pericoloso che deve essere redento santificato dalla loro carità e non idolatrato come l'unico vero dio di questo mondo così certamente che il matrimonio è lecito ma il fatto che il matrimonio sia lecito non significa che la virginità non sia una cosa migliore del matrimonio come vedremo a suo tempo quindi ci vuole sempre eh il vangiorno di domenica scorsa diceva che il discepolo non è da più del suo maestro ma ognuno ben preparato sarà come il suo maestro dobbiamo essere tutti quanti ben formati ben preparati infine per quanto riguarda le opere della carità poi vedremo qualche cosa ecco per quanto riguarda qualche difettuccio contro la carità qualche parola sulla correzione fraterna che è una grande opera di carità però qui attenzione alle molte indicazioni date da Santo Omaso e con lui dai maestri di spirito su alcuni accorgimenti da osservare quando si fa la correzione fraterna allora anzitutto va fatto osservando le circostanze di tempo cioè quando sicuramente quando una persona appare disponibile alla correzione fraterna sicuramente non quando è arrabbiata sul momento e nemmeno quando si vede che c'è un cuore completamente chiuso per cui quella parola sicuramente tu sai sulla base delle circostanze soggettive che non potrà produrre effetti positivi se non andare a fare imbestialire la persona magari a fargli fare qualche altro peccato oltre alle circostanze di tempo va fatto alle circostanze di luogo dove cioè non si fa ordinariamente una correzione fraterna per esempio in presenza di altre persone non si fa pubblico si fa in privato e poi di modo quindi cioè tutto quello che volete che gli uomini facciano voi fatelo anche voi a loro cioè il modo non è che tu prendi una persona l'attacchi subito direttamente gli fai immediatamente il rimprovero esplicito cioè est modus cioè con molta delicatezza prendendola da lontano i maestri danno le indicazioni prima di dire una cosa che non funziona loda la persona per quelle cose belle e buone che fa poi cerca con molto tatto ma forse in questa cosa sai pensaci un po' quindi per dargli una carezza per non fargli male ecco quindi questi accorgimenti da osservare sempre senza violare la appunto la carità stessa ripeto se si valuta se si giudica da un punto di vista oggettivo che il peccatore non accetterà la correzione ma farà peggio bisogna desisterlo dal correggio in maniera esplicita bisogna farla in maniera indiretta implicita per esempio una grande correzione fraterna è il nostro buon esempio cioè c'è una persona che dice un sacco di parolacce poi dici mo 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 dovrò far notare tu intanto non dirle mai che non scendere mai a livello cioè se una persona che in chiesa parla e fa macello tu stai zitto in chiesa non fiatare ah quella persona in chiesa sta come se stessi in albergo sta sempre scelerato tu abbia in chiesa un atteggiamento devoto e raccolto ah quella persona in chiesa sta vestita come una spogliarellista di las vegas cito un'espressione che disse un mio amico una volta tu vai in chiesa vestito come dio comanda eccetera no la predica muta delle nostre buone azioni possiamo farla sempre quella esplicita della correzione a queste condizioni se non ci osservano quindi tutte le altre queste circostanze ripeto è preferibile omettere la correzione questo discorso è chiaramente differente per chi è costituito in autorità perché un genitore deve correggere un figlio e un parroco deve correggere i suoi fedeli certamente per i genitori nei confronti dei figli è leggermente più facile presumo perché oggi il problema del parroco lo dico per esperienza è che nel sentire comune non viene più percepita né rispettata né come dire onorato addirittura per certi aspetti è un po' tra virgolette temuta l'autorità sacra anzi viene completamente misconosciuta o disprezzata quindi può succedere un parroco un sacerdote che si trovi in difficoltà nel senso che deve intervenire su una certa questione ma sa benissimo che l'ignoranza dinanzi a cui si può trovare e la strafottenza corrono nel pericolo che se dice una cosa non al momento opportuno o proprio che forse sarebbe meglio non dirla per non andare a far succedere disastri peggiori fermo restando che dovrà inventarsi qualche cosa per far arrivare ci sono tanti scamotage tanti esperienti la correzione a chi di dovere ora attenzione che c'è a questo riguardo un proverbio che dobbiamo ricordare lo stolto dice quello che pensa il saggio pensa quello che dice non cominciamo a dire ma io sono sincero pane pane al vino al vino tutte queste gradinate qua io non ti parlo io ti parlo in faccia e con questa scusa uno va e se magna vivo le persone poi altro che le correzioni fraterne non mi dite umilia le mortifica fa degli improveri non adatti e non pensiamo mai di cambiare le persone con le nostre prediche con le nostre correzioni a forza di parole noi non convertiamo non cambiamo nessuno i cuori li apre il nostro signore quindi la prima cosa che bisogna fare quando si vede una persona che sbaglia è pregare per lei che il signore li apra il cuore e che la disponga alla conversione che è provocata dalla correzione allora la carità oltre a questo andiamo verso la conclusione ha dei gradi differenti di presenza e diciamo così di operatività nelle anime come tutte le virtù è soggetta a crescita a diminuzione o a perdita totale allora vediamo le forme e modi con cui è presente nelle anime nei principianti quelli che San Paolo chiama i bambini nella fede o i neoconvertiti tanto per intendersi con un con un'espressione forse un po' più moderna un po' più comprensibile no la carità in queste anime muove l'uomo ad allontanarsi dal peccato e a resistere alle concupiscenze ricordiamo sempre che la carità adesso abbiamo fatto una parentesi sulla carità fraterna ma la carità è anzitutto amore verso Dio quindi la misura in cui tu aderisci al signore ti allontani dal peccato e resisti alle concupiscenze questi sono i principianti nei proficenti cioè quelli che progrediscono quindi quelli che hanno già cominciato con un po' di tempo a camminare cercano di andare avanti quelli che Sant'Ignazio di Loyola nei suoi illuminatissimi scritti sul discernimento degli spiriti chiama quelli che vanno di bene in meglio che cosa fa la carità sostiene lo sforzo di avanzare nel bene perché non si fa niente di buono nella vita e nella vita cristiana in particolare senza la perseveranza e la perseveranza deve essere sostenuta e rafforzata dall'amore l'amore non si deve raffreddare perché altrimenti non agiremo mossi dall'amore di Dio per crescere sempre di più in ogni virtù e migliorare giorno dopo giorno o nei perfetti la carità porta alla vita di unione con Dio soprattutto ma non solo nell'orazione e quindi a un incipiente godimento di Lui ovviamente nei limiti ristretti in cui è possibile anche in questa vita attenzione che basta un solo peccato mortale basta non andare a messo una domenica senza che ci sia una motivazione grave per perdere completamente questa virtù sapete che con un peccato mortale si perde la carità e tutte le virtù salvo alcune tipo la fede e la speranza che rimangono come dire come corpi senza anima per usare un'immagine che forse rimane impresse i peccati veniali non fanno perdere la carità ma la raffreddano portano al progressivo raffreddamento che a un certo punto se comincia a diventare una cosa abituale diventa intiepidimento la tiepidezza che è uno stato terribile produce una mediocrità di vita quindi la persona che come dice Gesù non sei né caldo né freddo attenzione che contro i tiepidi usa delle parole terribili nel libro dell'Apocalisse il Signore poiché sei tiepido sto per vomitarti dalla mia bocca magari fossi caldo magari fossi freddo perché se sei caldo vuol dire che stai al secondo o al terzo livello quindi sei andando di bene in meglio o verso la perfezione se sei freddo ti posso convertire la sindrome del neoconvertito è quella di sbrigarsi ad aderire a Dio e a staccarsi dal peccato ma il tiepido si trova in una situazione che se non ci mettere mai il nostro Signore brancola in questa mediocrità a tempo indeterminato e questo non è certamente una condizione a cui anelare ora uno sguardo in conclusione ad alcuni non tutti dei bruttissimi e numerosissimi vizi che sono alcuni formalmente direttamente altri indirettamente ma non in maniera meno grave e pericolosa contrari alla carità ovviamente la forma più grave di opposizione alla carità è l'odio di Dio quello che hanno i demoni e attenzione i demoni e i demoni incarnati come si dice nel quindi perché oltre ai demoni l'inferno è popolato anche delle anime dannate e le anime dannate prima di diventare dannate purtroppo si sono dannate in questo mondo quindi comportandosi già da questo mondo come demoni incarnati quindi questo odio da che cosa è scatenato come si fa a odiare Dio certamente né da ciò che caratterizza il suo essere cioè Dio è la vita Dio è l'intelligenza suprema è la bontà suprema quindi né da ciò che sono i suoi attributi Dio è la bellezza e la bontà stessa Dio è ogni grazia ogni bontà ogni savienza come si fa ad odiare Dio non per se stesso evidentemente ma da alcuni suoi effetti che ripugnano le volontà disordinate per esempio il fatto che Dio proibisce peccati e il fatto che Dio peccati anche se oggi quest'argomento non vuole essere ascoltato perché è stato anche questo estromesso dal diritto di cittadinanza non soltanto che Dio proibisce i peccati ma Dio i peccati li punisce e li castiga in due modi questo mondo con pene tra virgolette medicinali si chiamano così sono i cosiddetti castighi castighi viene dal latino castumagere cioè ti infliggo una sofferenza allo scopo della tua redenzione perché tu possa cambiare perché tu possa capire che stai sbagliando un po' come quando un genitore castiga un figlio nel senso questo si trova scritto nella lettera agli ebrei chi nega queste cose è per la vostra correzione che voi soffrite Dio vi tratta come figli quale figlio non è corretto dal padre sì certo ogni tribolazione sul momento causa di ristezza ma poi porta un frutto di vita quando Dio vede che non ci sono altri sistemi per distogliere dal peccato qualcuno cioè che la sua bontà e misericordia che sono i suoi modi ordinari vengono scambiati per debolezza quella persona sta viaggiando verso l'inferno prima di prendere atto di quella dannazione volontaria tra le cose che il nostro Signore fa in questa vita ci sono i castighi che servono alla conversione si chiamano pene medicinali invece nell'inferno quelli non sono castighi quelle sono pene retributive quindi sono retribuzioni del male commesso certamente gli esecutori di queste cose sono i demoni ma tanti e quanti sono i peccati commessi per specie per numero e tante quante saranno le pene che conosceranno all'inferno ma in maniera perfettamente proporzionata lì la giustizia di Dio per i dannati interviene nell'impedire alla cattiveria dei demoni di tormentare un peccatore dannato più di quanto se l'è meritato perché se dipendesse dai demoni gli farebbero soffrire ancora di più Dio dice no non più di così ma questo lo fa e per questo motivo Dio può essere tra virgolette anzi senza ma anche troppo virgolette perché i demoni e i demoni incarnati delle anime dannate Dio lo odiano cioè è proprio il costitutivo formale dell'inferno l'odio di Dio poi c'è anche l'odio del prossimo l'odio del prossimo che spesso si esplica e si nutre del vizio capitale e dell'invidia che è una cosa bruttissima perché l'invidia consiste nel come vedremo quando la tratteremo nel rattristarsi del bene altrui percepito come male proprio e nel rallegrarsi del male altrui percepito come bene proprio proprio il contrario di quello che fa la carità perché la carità si rallegra del bene altrui che lo percepisce come se fosse proprio e compatisce attraverso la misericordia le opere di misericordia cercando di aiutarlo il male altrui è proprio il contrario quindi proprio un vizio formalmente opposto alla carità anche l'accidia attenzione in quanto l'accidia come vedremo non è semplicemente la pigrizia di chi sta con la panza all'aria ma l'accidia è la nausea o il tedio per le cose spirituali cioè è ciò che porta a pregare di meno a essere meno fervorosi meno frequenti ai sacramenti quindi a fare le retromarce spirituali si oppone alla carità la lontananza dalla preghiera dalle buone e dalle sante letture o dalle sante o dai santi ascolto delle belle catechesi che si sentono in giro online ovviamente con tanti altri confratelli che sono molto più bravi e più santi del sottoscritto quindi tutto ciò che concorre a far crescere la nostra vita di grazia quindi l'accidia certamente è contraria alla carità poi c'è anche per quanto riguarda la carità fraterna la discordia e la contesa la prima consiste nel contrasto di due volontà scrive Santo Maso ciascuna delle quali tende a prevaricare sull'altra e ad anteporre le proprie scelte e perere a quell'altrui la carità invece questo grande allenamento cede sempre il passo non impone il proprio modo di pensare tutte le volte che può con l'unica eccezione di quando c'è in gioco il bene o la verità oggettivi quindi il peccato oppure che si vada contro la verità rivelata lì non si può come dire abbozzare e dice vabbè facciamo come dici tu lì no lì piuttosto la morte e attenzione ad applicarlo bene questo criterio quando una cosa è contraria al bene o al vero non è carità dice vabbè lo facciamo lo stesso pro bono pacis per credo vivere no no quando c'è di mezzo il bene o il vero quando non c'è di mezzo essere remissivi essere condiscendenti piegarsi volentieri per amore allora dentro questo orizzonte San Tommaso addirittura dice che è cosa buona introdurre il dissenso fra coloro che sono concordi nel male cioè fare il bastian contrario quindi andare controcorrente e dire voi dite così ma io penso colà e penso colà non perché voglio fare il bastian contrario ma perché quello che penso colà sono certo in coscienza persuaso che sia il bene e il vero oggettivo ed è a questo che si riferisce Gesù quando nel Vangelo afferma di essere venuto a portare una spada è vero che lui porta la pace vi lascio la pace vi do la mia pace ma dice anche io non sono venuto a portare la pace ma una spada che significa significa che la falsa pace quella che deriva dall'essere d'accordo su una cosa cattiva quella falsa pace va combattuta e se io faccio il bastian contrario non soltanto che lo posso fare non devo dire ma che razza mo qui vado a seminare la divisione e che come faccio questo è contrario alla carità non manco per niente è il primo atto della carità quindi attenzione sempre perché la formazione su questi punti deve essere proprio fatta bene perché altrimenti anche con la buona fede quindi pensando di fare una cosa buona si va a fare esattamente il contrario di quello che Dio vuole questa è dunque la discordia la contesa si ha invece quando si entra in discussione e polemica verbale con qualcuno le polemiche ordinariamente vanno evitate nella seconda lettera a Timotio versetto 2 capitolo 2 versetto 14 di San Paolo dice evita le vane discussioni a meno che anche in questo caso la contesa non sia fatta per difendere la verità o il bene però a patto anche qui che si faccia a tempo luogo e modi opportuni per esempio nelle polemiche anche intra ecclesiali in difesa della verità non bisogna mai mancare ai modi opportuni cioè fare pubblicamente nomi di chi ha posizioni limite se si può evitare è meglio dover trovarsi in situazioni che possono come dire scandalizzare il prossimo quindi andarsi a mettere se si può evitare non esplicitamente direttamente contro per esempio qualche autorità rappresentativa basta semplicemente se un'autorità rappresentativa dice una stupidaggine grossa quanto una casa uno scrive un articolo senza fare il nome dice il contrario in modo tale che purtroppo al contrario bisogna dirlo se quella ha detto una stupidaggine grande quanto una casa però possibilmente evitare ecco di 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 dare come dire proprio proprio l'immagine esplicita che ci si è messi gli uni contro gli altri perché è doveroso in certi casi ma la persona semplice la persona che non capisce vede soltanto lo scontro se tu invece eviti fino a dove è possibile perché se non è possibile si fa pure quello però lo scontro diretto ma ti concentri soltanto sulla promozione del bene e del vero questa controindicazione per esempio viene meno e è possibile quindi quando non ci sono grossi interessi in gioco le polemiche vanno bandite perché sono ordinariamente peccato veniale dice San Tommaso mentre quando si dovesse fare polemica attenzione per contestare la verità o il bene oggettivi allora diventa peccato mortale oppure quando la contesa è fatto in modo inurbano indecoroso qui se mi posso permettere basta accendere per chi lo fa la scatola del diavolo e vedere quello che succede nei talk show di oggi si vedono delle volte insomma io intanto vedo qualche spezzone che viene messo in giro sui social perché non guardo questa quell'immonezzaio si perdono insomma non c'ho tempo da perdere guarda quelle porcherie ma ci sono delle cose veramente qualificabili cioè segni dei tempi in cui viviamo dei brutti tempi in cui viviamo no mai bisognerebbe abbassarsi a tali stili proprio triviali rozzi grezzi inurbani indecorosi proprio che calpestano la bellezza e la dignità dell'uomo no su questo stiamo attenti tutti quanti io tante volte vedo anche in giro anche delle persone in gamba brave capaci ferrate ben formati su alcuni argomenti ma che non sono capaci di evitare almeno qualche volta in qualche esternazione o in qualche documento scritto o parlato l'uso della volgarità io su questo c'è proprio un pallino ma che bisogno c'è e questo poi è tanto più doloroso quanto più si vede che proviene da magari una persona che è comunque in gamba nel senso che ragiona bene che vede bene su alcune cose dico ma perché devi macchiare questa cosa con la volgarità e con la trivialità è proprio necessario non riesci a capire che faresti molto di più senza quel neo che ti pone su un livello che non dovrebbe essere il tuo se tu stai dalla parte del vero e del bene specialmente poi se credente o addirittura se consagrato non possiamo noi insulsiaggi ne trivialità e volgarità ne parla esplicitamente San Paolo come di cose da bandire senza se e senza ma ecco infine ci sono due peccati pubblici contrari alla virtù tutto il locale della carità primo lo scandalo perché lo scandalo uccide la carità nei cuori altrui quindi distoglie dall'amore di Dio sommamente amato e in molte circostanze anche dall'amore del prossimo e poi lo scisma lo scisma è un peccato diretto contro la carità perché rompe la comunione gerarchica con il capo visibile della chiesa minando quella particolare nota della chiesa che è l'unità sappiamo che l'unità adesso non c'è tempo di approfondire questa cosa perché siamo in fine di catechesi perché ci vorrebbe una lezione a parte l'unità della chiesa di per sé è intaccabile perché scismi e teresie non hanno tolto alla chiesa di Cristo la sua unità però certamente lasciano una ferita perché la chiesa non perde la sua unità come nota essenziale però le divisioni esteriari esteriore del membro visibile del corpo di Cristo rimangono ecco anche qui dentro la chiesa l'ho già accennato prima è chiaro che bisogna portare avanti e oggi più che mai il vero e il bene ripeto fin dove è possibile senza come dire favorire il formarsi di schieramenti contrapposti specialmente quando si poi scherre fanno schermaglie e duelli nominativi creando quelle situazioni antipatiche ecco di come dire di divisione consumata e conclamata fino a dove è possibile questo va sempre evitato quando capita una situazione assolutamente estrema e borderla in limite allora lì capiamo che si trova nella nella condizione limite del si salvi chi può ecco prima che si arrivi a situazioni di questo genere ce ne vuole ecco ordinariamente non è così e fino a quando non è così il servizio al bene e alla verità va portato avanti come raccomandano da sempre tutti i maestri di spirito sempre conservando la carità e l'unità che sono beni fondamentali ed essenziali sicuramente non abbiamo finito quindi è finita questa breve presentazione che come tutte le presentazioni è limitata e a oltremodo imperfetta ecco però penso che possa bastare per cui come accennavo nella prossima volta apriamo il capitolo sul terzo vizio capitale andiamo con ordine anche per quanto riguarda i vizi che è la lussuria che ci terrà compagnia sgradevole per un po' sgradevole certamente sperando però che come si fa sempre trattando i vizi i vizi si trattano perché ci si innamori delle virtù opposte quindi perché possa aumentare in noi l'amore alla purezza alla castità alla verginità beh detto questo ci salutiamo e ci vediamo se Dio vuole la prossima settimana Dio vi benedica e la Madonna vi protegga la prossima la prossima